Ciao a tutti, oggi spogliamo insieme il burda di gennaio quindi festeggiamo già questo nuovo 2022 con i nuovi modelli della rivista all'interno molti modelli diciamo proprio d'archivio interessanti e vi darò i miei consigli sui tessuti da utilizzare per cucirli ovviamente tutti i tessuti che vi consiglierò li trovate in vendita sul mio shop online www.lavolta.it e giù in descrizione oltre al link allo shop vi lascerò anche il link per iscrivervi alla newsletter se ancora non l'avete fatto e avere un 10% di sconto sul vostro primo acquisto ora mi metto sul tavolino che così iniziamo a guardare cosa c'è nella rivista allora eccoci qui il primo modello della rivista è questa maglia molto carina la bottonatura così asimmetrica ha le pants sotto al seno, manica lunga insomma per il resto abbastanza lineare come modello infatti ha una difficoltà 2, taglie 36-44 e questa è stata realizzata in viscosa infatti insomma per averla bella così fluida morbida addosso consigliato questo tipo di tessuto qui invece abbiamo una casacampia viene chiamata difficoltà 1 quindi un super easy infatti è molto carina, forse l'unico dettaglio insomma che potrebbe essere un pochettino più difficile da cucire è il polsino perché infatti è più gonfio proprio sul polso e dopo si stringe no perché c'è proprio il polsino applicato taglie 36-44 questo è consigliato in un tessuto jacquard ma elasticizzato quindi in questo caso sullo shop al momento non ho niente da consigliarvi purtroppo qui abbiamo invece un cappotto senza collo e bottoni automatici di quelli che si cuciono tasche molto carino molto semplice anche come modello di questo trovate la scuola di cucito quindi ci saranno le istruzioni illustrate taglie 34-44 difficoltà 2 questo qui lo potete fare se lo volete per la mezza stagione anche in twill di cotone quello un pochettino più pesante lo trovate sullo shop ci sono ancora un paio di colori disponibili e avevo cucito anche io una giacca con quel tessuto e comunque insomma per diciamo verso primavera va bene no come peso in alternativa se volete potete utilizzare uno dei tessuti jacquard che trovate sullo shop che sono un pochettino più pesanti proprio per più mezza stagione ma un pochettino più caldi insomma qui abbiamo questo completo giacca corta molto bella tra l'altro questo mini blazer è minigonna questa qua sempre attuale no questa difficoltà 3 quella difficoltà 2 le taglie sono 34-42 in entrambi i casi in questo caso ho utilizzato un tessuto jacquard molto bello tra l'altro sul mio shop lo potete fare secondo me con i tessuti quelli tartan c'è il mini piede pull che è molto carino come effetto anche perché la fantasia è piccolina e quindi non ce n'è anche veramente il problema per far combaciare le linee in alternativa sempre con le linee però magari un pochettino più soft il tartan blu molto elegante secondo me in questo modello qui poi abbiamo questa blusa molto particolare praticamente c'è una striscia centrale che va a fare il giro dietro al collo e diventa una specie di sciarpa difficoltà 3 questa l'hanno fatta in viscosa poi il resto praticamente una camicia classica nel senso che le maniche proprio hanno il polsino con il bottoncino difficoltà 3 taglie 36-44 qui invece abbiamo una giacca corta modello simile chanel c'ha le pants sotto al seno qua hanno fatto anche i profili con lo sbieco questo in taglie 34-44 a difficoltà 2 anche per questa è consigliato un tessuto jacquard pantaloni questi qua molto classici difficoltà 3 taglie 34-42 questi qua sono consigliati in un tessuto per pantaloni elasticizzato e vi anticipo che sto per caricare sullo shop dei nuovi twill di cotone con delle lastane all'interno proprio per riuscire a cucire anche questo tipo di modelli perché per adesso insomma non avevo tessuti adatti proprio a questo tipo di pantaloni invece dove vi richiederanno di utilizzare appunto un tessuto leggermente elasticizzato per fare i pantaloni ho aggiunto questo aggiungerò insomma questo tipo di tessuto per cui iscrivetevi alla newsletter dello shop se ancora non l'avete fatto giù in descrizione vi lascerò i dettagli poi qui abbiamo un altro tipo di pantalone ma molto più ampio molto bello sapete che a me questo tipo di pantalone così insomma molto comodo piace questi qua li hanno fatti in viscosa taglie 36-44 difficoltà 2 molto bello molto diplomatico anche per nascondere un po' le curve qui invece abbiamo questo abito con maniche a farfalla cinta in vita anche questo fatto in viscosa molto elegante insomma può essere a seconda della fantasia che scegliete questo l'hanno fatto anche se non sbaglio in viscosa sì insomma lo potete fare in tinta unita magari da utilizzare tutti i giorni anche da abbinare più facilmente oppure con un tessuto fantasia e a seconda del tessuto che scegliete comunque diventa anche un abito abbastanza elegante carino anche da portare con gli stivali insomma può essere abbinato molto facilmente difficoltà 3 taglie 36-44 qui abbiamo questa maglia in taglie lunghe quindi cambia la tabella di riferimento per le taglie è una maglia in jersey molto semplice ha questa diciamo arricciatura più pieghe sono tipo delle pieghe su un fianco e quindi crea questa simmetria comunque interessante come modello sembra molto semplice anche perché il giro manica è sceso quindi non avete il giro manica più pronunciato delle maglie classiche infatti qui l'ho riuscita a vedere meglio la difficoltà è 2 appunto in taglie lunghe qua sì un jersey di cotone va benissimo qui c'è la scuola di cucito del cappotto di prima e vi anticipo che per diciamo stabilizzare la paramontura all'interno quindi tutto il rinforzo del collo è molto probabile che vi serva un interfodera e in questo caso insomma trovate diversi prodotti proprio di freudenberg sul mio shop nella categoria della marciaria gli stessi pantaloni che abbiamo visto prima e lo stesso completo che abbiamo visto prima quello con il mini blazer infatti qua c'è il mini blazer e quest'abito molto carino tra l'altro hanno utilizzato anche lo stesso tessuto e diciamo da questa linea un po' grezza di questo tessuto mi viene in mente che potete utilizzare anche i cotone mistolino per fare sia questi ma anche quest'abito qui quest'abito in realtà lo potete fare anche con un tessuto di cotone classico e poi lo utilizzate magari durante la primavera molto carino molto semplice c'è la ricciatura in vita sopra è un top e aperto sul retro c'è questa apertura a goccia molto carino il dettaglio maniche mi piace molto questa forma uovo diciamo che hanno le maniche questa difficoltà 3 taglie 34-42 molto carino cappotto molto bello molto ampio cinta per stringerlo oppure lo potete lasciare a campana difficoltà 3 taglie 36-44 va foderato e sul mio shop trovate i cappotti proprio di lana cioè i tessuti in lana per fare i cappotti e i tessuti di viscosa li ho pensati per le fodere per cui insomma avete tutto il necessario poi i bottoni in questo caso sono bottoni automatici e nella categoria bottoni trovate anche diverse tipologie sia di bottoni da cucire se volete fare le asole ma anche proprio bottoni di quelli da cucire automatici che insomma vi velocizzano anche un pochettino il lavoro e non si vedono poi all'esterno quindi questo modello qui molto carino sempre in taglie lunghe la maglia quella con le pieghe asimmetrica di prima la camicia di viscosa con la bottonatura asimmetrica qui invece abbiamo una felpa questa qua con dettagli in pizzo una felpa molto semplice difficoltà 2 taglie 36-44 anche questa con l'apertura a goccia sul retro per questa qui potete utilizzare appunto un tessuto felpa e tra l'altro hanno utilizzato anche i tessuti per polsini per fare sia appunto i polsini ma anche la parte sotto quindi tutto l'orlo della felpa poi abbiamo un abito elegante questo è il modello firmato infatti c'è anche tutta l'articolo dedicato alla designer e questo qua è un abito da sera difficoltà 3 questo è stato fatto in seta se non sbaglio lo potete fare anche in viscosa se non siete pratici insomma nel cucire la seta e poi c'è questo dettaglio penso in tulle, organza sì la nuvole in organza ecco comunque è a difficoltà 3 taglie 36-44 questa è la panoramica di tutti i modelli le istruzioni, i cartamodelli e poi continuiamo di qua con questa maglia qui una blusa con le ruche questa qua è in taglie corte e difficoltà 3 ha la bottonatura semplice davanti le penso sul seno i polsini manica proprio classici quindi col bottoncino questa l'hanno fatta con un tessuto così un po' in pizzo e la potete fare anche benissimo in cotone proprio perché è una camicia molto classica o anche in viscosa se la volete un pochettino più svolazzante questa è la maglia che abbiamo visto all'inizio quella in giacardo per elasticizzato l'abito con le maniche a farfalla in viscosa l'abito con il collo a sciarpa sempre in viscosa questi li abbiamo tutti visti prima il cappotto con un'altra fantasia qui si vede meglio il dettaglio dei bottoni e anche le tasche molto bello comunque veramente molto bello come modello l'abito questo qua lo stesso che abbiamo visto prima di questo c'è la scuola di cucito è stato allungato e non capisco se qui c'è semplicemente un profilo o se è stata fatta una specie di balza sul fondo ma credo che sia stato semplicemente allungato e appunto le maniche con i polsini questa difficoltà 4 34-42 le taglie qui abbiamo la minigonna del completo con i mini blazer qui hanno sorrapposto due stoffe quindi c'è una fodera e un tessuto in pizzo anche qui potete utilizzare anche semplicemente appunto uno dei tessuti tartan che trovate nella categoria tartan and co dello shop poi questo è il pantalone quello che abbiamo visto prima ampio in viscosa e qui c'è la scuola di cucito dell'abito e anche in questo caso è indicata proprio l'uso dell'interfodera per rinforzare la parte del collo e poi vi mostrano anche come fare l'arricciatura ho fatto un video proprio specifico su come fare l'arricciatura se non avete il piedino per arricciare magari ve lo lascio anche giù in descrizione che può esservi utile proprio per la confezione di quest'abito qui moda curvi è il primo modello è questa mantella qui che avevamo trovato tra l'altro anche simile nel burda easy per taglie più piccole in questo caso invece lo trovate proprio per taglie curvi e infatti per tutte le persone che mi hanno detto ma il burda easy arriva fino a un certo punto con le taglie almeno certi modelli li potete recuperare anche con il burda classico o il burda curvi questa difficoltà 3 le taglie sono 44-52 e la potete realizzare con i tessuti giacardo e i tessuti per cappotto comunque che trovate sul mio shop qui c'è il blazer con i profili un masterpiece di difficoltà 4 comunque un blazer molto classico anche questo tessuto giacardo o anche i tartan secondo me sullo shop pantaloni anche qui classici tasche se non sbaglio hanno la zip laterale molto carini molto semplici difficoltà 2 44-52 le taglie stesse taglie anche per l'abito che vediamo dopo e questi qui li potete fare con un tessuto un twill di cotone se volete anche dargli un pochino di elasticità con i nuovi twill di cotone quelli con l'elassare all'interno però leggevo non è richiesto dell'elassare su questo modello questo qui è un abito molto carino anche questo molto classico qui il davanti qui il dietro c'è una bella zip invisibile sul retro molto molto bello cioè molto veramente classico e tra l'altro può essere utilizzato sovrapposto così con un'altra maglia appunto per l'inverno oppure anche in primavera insomma senza niente sotto così senza senza maniche la difficoltà è 3 per questo qui vi consiglio appunto all'interno della categoria tartan ma anche secondo me i nuovi twill di cotone non sono male e un'altra novità che ci sarà appunto a breve sullo shop è un cotone un velluto a coste 100% cotone con le costine piccoline piccoline che secondo me con quest'abito è veramente carino tra l'altro ce n'è uno nero che secondo me è abbastanza brillante come tessuto molto bello qui abbiamo un super easy taglie 44-52 difficoltà 1 questo gilet tessuto elasticizzato un jersey va benissimo qui abbiamo invece il pantalone questi qua sono molto simili a quelli che abbiamo visto prima hanno dei risvolti sul fondo sono a difficoltà 2 per questi invece è indicato un tessuto elasticizzato quindi il twill quello nuovo probabilmente è meglio per questo modello però non ho capito esattamente le differenze tra i due modelli qui abbiamo della moda bimbi taglie 98-122 centimetri di altezza difficoltà 3 la camicia classicissima una camicia di cotone per bambino molto utile insomma da avere e poi abbiamo in super easy la felpa che potete fare con due tessuti con un unico tessuto questa è a difficoltà 1 ed è un modello super d'archivio comunque per bambini e la potete fare anche secondo me in jersey di cotone se volete sfruttare il cartamodello anche per fare una maglia e non solo una felpa poi abbiamo questa gonna qui una gonna a portafoglio molto bella tinta unita una viscosa per questo modello qui super easy taglie 44-52 poi sempre per bimbo il giubbotto in jeans difficoltà 3 trovate diversi denim vi consiglio quello medio pesante per queste giacche qui anche per giacche d'adulto in jeans e poi c'è il pantalone questi sono in velluto a difficoltà 2 ho ancora del velluto a cosse un pochettino più spesso in alternativa lo stesso cartamodello lo potete fare con il tessuto denim qui abbiamo la maglia una blusa normalissima con gli elastici sui polsini c'è questo dettaglio insomma sul collo difficoltà 2 questa anche fatta in viscosa e poi iniziamo con i lavori creativi vi mostrano come realizzare questo diciamo porta oggetti da tavolo un piano che mettete per proteggere il tavolo e avete queste tasche sul davanti poi c'è anche il tutorial per realizzare questi cestini e in questo caso ho utilizzato il decovil 1 che trovate sul mio shop e che è un bel stabilizzatore proprio per questo tipo di lavori noi ci abbiamo fatto una borsa a secchiello insieme e insomma dà una bella rigidità al tessuto infine l'ultimo modello è questo cuore che potete usare come decorazione appunto quale hanno messo come chiudipacco e anche in questo caso hanno utilizzato un'imbottitura all'interno insomma vi mostrano come assemblare tutto insieme e per il come si fa questo mese rush per cui avete tutto quello che vi serve sapere sulle rush e infine appunto le anticipazioni per il burda di febbraio quindi questo è tutto quello che è contenuto all'interno del burda di gennaio come al solito fatemi sapere i vostri modelli preferiti ma soprattutto se durante queste vacanze di natale se farete vacanza insomma vi siete fatti una to do list di cose da cucire ma anche da fare in generale perché mi sono fatta tutta una lista di cose da fare durante l'inverno che avevo condiviso con voi sui social e sono abbastanza a buon punto ed è un buon modo secondo me per prendersi un po' del tempo per se stessi così vi fate una lista delle cose che volete fare e cercate insomma di portare a termine alcuni punti è una spinta in più insomma per prenderci anche cura di noi ogni tanto se ancora non lo fate avete piacere di farlo insomma iscrivetevi al canale e per supportarmi mettete un like a questo video o condividetelo anche magari con i vostri amici appassionati di cucito a me fa super piacere infatti vi ringrazio tantissimo in generale per tutto il sostegno che mi date sempre e se avete voglia potete anche seguirmi sui social giù in descrizione vi lascerò i link a Instagram Facebook e TikTok novità e insomma lì sicuramente sarò più attiva durante le vacanze di Natale almeno ci teniamo compagnia a vicenda vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao